Siamo Marco Carta, ho 22 anni e sono qui... Boh, forse per diversi motivi Non so cosa dire... Sei sardo? Sì, sì, vedo dove sei Di cogliere Cagliere Vuoi concentrarti sulla dinamica? Una cosa Ma sta troppo male quando mi tocca un disastro Io credo che dopo un mese di permanenza ci sia abbastanza tempo per ritenere Che il tuo banco è occupato, secondo me, ingiustamente Quindi mi spiace Marco, ma ufficialmente non fai più parte di questa scuola Ok? Ricordi di un anno Monti che ti lasciano un sorriso Ricordi Le risate tra di noi Vorremmo l'elenco delle canzoni di Grazia di Michele Non la metti in diavola Non è sempre tutto un processo Questo è il processo di Marco E così la media è cambiata nel corso del tempo E penso che adesso sia falsa Finta Oh, ma se ricordo un po' di mano, secondo me Ricordi Bellissimi Pensieri e sensazioni che ti danno Ricordi E questa è l'emozione più grande Pensare che sognali tanto una cosa l'hai raggiunta Perché questa è una parte di un sogno Momenti che ti lasciano Graffiato c'è sempre E le risate Oh, sta andando via graffiato Marta, su, te rami in diaboleria Questa è diabolica veramente Pensazioni che ti danno Ricordi 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 Mi stronti Per sempre Per sempre Non mi sento al di solo di nessuno Perché devo dirlo se non lo penso Si vive di attimi E di emozioni Per sempre Da sempre Ma adesso siamo qui Per questo stringimi Non voglio perdermi Proprio adesso no E niente di perderti Per sempre Real 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 Grazie a tutti.